di sopra, Alessia, 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 Buonasera, Buonasera a tutti, grazie per questa numerosissima presenza, stasera, stasera, grande fratello ha due grosse novità. I concorrenti sono qui tutti nello studio del grande fratello edizione numero 9. Vi assicuro che sarà questa una serata esplosiva. Ed ecco, iniziamo con la presentazione del primo candidato. Signori e signori, un applauso a Cristina. Buonasera, buonasera a tutti quanti, sono Cristina Rastadera, ho 21 anni, sono studente, e parlo di un'altra, faccio la cupisse, non ho poche lapdance, siamo un compagno mio, Marco, 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 sicuramente stai camminando, ciao Marco, sei fashion, sei frizzantino, sei lo cucurimi, Marco, mua! E' incredibile questa Cristina. Cristina, ascolta, fai sentire al pubblico qui in trasmissione che cosa è qui in studio, cosa ti ha spinto a partecipare al grande fratello? Cristina, avrà proprio, mi serve un esordio, mi serve un esordio perché mi vorrei fare un po' il seno un cucurile più grosso, vorrei partire dalla sesta alla decima, ma che ottava, che ottava, alla decima, e ottava è piccolina, alla decima. Ma scusa Cristina, ma io penso che stai scherzando, non ti passa questa misura. No, no. Allora ascolta, fai toglici una curiosità che tutto il popolo italiano, anzi cosa dico, tutti i presenti qui, tutti i monteronesi, sono sicura, vogliono sapere, ma sono naturali? Cristina, è tutto mio, è tutto mio, non ci credite? Vorrei totuccare? No, dopo, dopo. Va bene, va bene, adesso ti puoi anche un attimo accomodare dove vuoi, scegli tu, e andiamo avanti con la presentazione degli altri concorrenti. Vi presento, signori, ecco a voi, Federica e il suo amato... Cuccia qua, cuccia qua, non ti muore, stanzi, cuccia qua, non mi pare... Buonasera, Simona, buonasera a tutti. Sì, io sono Federica e vengo alla scena sanità, e ti puoi facile arrabbiare, altrimenti cacci l'ogna, lo ti dico a una pieza, e lo ti dico a una cosa faccia. Mamma mia, come sei? Cuccia qua, mamma mia. Federica, calmati. Fai una cosa, conta un attimo fino a nove, mentre io vado avanti con le presentazioni, l'altro candidato, signori, allora, ecco, adesso dopo due donne vi presento un bel macio. Finalmente. Ecco, proprio come dice Cristina, vi presento un ragazzo che è fashion, fashion e frizzantino, è proprio un playboy, signori, ecco a voi, Gianluca! Sono Gianluca, vengo, sono che furia, e me lo so chiudo a Germania, a circa fortuna, ma me lo so tornato caro che brucia, e caro che c'è il clandac, uvola. Perciò, ho mai dovuto, perché mangiare una roba con il cucinio e mezza orecchio, perché oggi non mi dà il padre delle creature. Mamma mia, però, non ti preoccupare, Gianluca, non ti preoccupare, effettivamente sei proprio fashion, come dice Cristina. È bellilla, è bellilla. È bellilla. Ma non vieni qua, vieni qua, per favore, dopo, dopo. Ma che maniaco! Allora, ascolta, non ti preoccupare. Mettetemelo lontano. Sì, tanto se sei qui sicuramente farai qualche cosa di buono. Beh, allora, visto che vi siete tutti accomodati, posso andare avanti con un altro candidato.